bentornati ragazzi nel ventesimo episodio di pokémon randomizer scusate io come sempre il saluto del ruoto è la maniva di qui dopo aver battuto un altro po' di allenatori e vediamo cosa ci attende su questa strada nuovi pokémon nuovi allenatori nuovi vittorie e nuovi soldi si ho messo miltank come primo pokémon e così lo posso allenare tranquillamente scusate un radicate grande radicate un pokémon di acce se non vado a ricordare male che è molto probabile un altro beautyfly vabbè niente di che ok l'altro allenatore fu 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 ma come cacchio ridi ok che ci fa uno snorant meh non mi fa impassire sinceramente anche se un pokémon di tipo ghiaccio non mi trago oh shadow bull questa può essere utile croconav ciao ok qui che cosa c'è sì mi sa che qua c'è uno strumento infatti white herb erba bianca ottimo a che serve non lo so però qui non si butta nulla ok tu quanti pokémon hai uno shackle due pokémon ah però non gli ho fatto quasi niente sei tosto sì in effetti hanno una bella resistenza gli shackle su questo non c'è dubbio sono veramente forti livello 26 per miltank signori bide che era bu mi ricordo c'era bide si me lo ricordavo e ora clay doll sì poi io l'ero anche dragonite ovviamente per livello 26 hanno detto ben madonna ragazzi madonna ragazzi ed ora rimettiamo ancora che palla se non portano più ok mettiamo core doll davanti e andiamo avanti ragazzi ora tengo più che cosa abbiamo qui cosa abbiamo qui ahia ci sono 4 pokémon ahia ci sono 4 pokémon grande claddle grande claddle grande claddle ciao 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 bello ciao ok ragazzi ora mettiamo avanti il nostro carissimo dragonite ok un'episodio in montagna questo si potrebbe dire io l'avevo io l'avevo io l'avevo ok dragon rage ah però beh ci è mancano poco the wing all'acciaio sempre efficace un corpi madonna corpi mi fa un pazzì quello dell'anima è bellissimo grande magari a trovarlo nell'erba quello deve subito evolve ok qui non c'è niente che grotta è questa meteor fall ah si ok si mi ricordo dove stavo qua oh ma knight ciao quicklow perfetto guarda orto no ragazzi io qua ci devo tornare ma prima di subito non prende subito che pokémon forse è pure guagsire madonna è una vignella d'oro sta grotta ecco appunto ma siccome il video sarebbe troppo lungo io ragazzi vi lascio qui grazie per aver visto questo video lasciate un like un commento e sempre se volete iscrivetevi al canale al vostro gioco di lavoro è tutto stay hollow ciao